Nell'ultima seduta era mancato il numero legale in maggioranza, evidente strascico della crisi che ancora si trascina con Forza Italia. Ci si riprova dopo l'approvazione in giunta. Il DUP, il documento unico di programmazione per il 2023-2025, torna in Consiglio Comunale. In sostanza un documento di più di 300 pagine che delinea i prossimi tre anni di amministrazione biondi. Importante anche perché scatta una fotografia della città con gli ultimi dati che parlano di una crescita demografica dello 0,2% con 69.508 abitanti ma con la flessione delle imprese. Linee programmatiche che abbracciano più fronti dall'incentivazione a tornare in centro al piano di edilizia scolastica. Sul fronte delle opere pubbliche figurano il completamento di Palazzo Margherita con la riqualificazione di Piazza Palazzo ma si vuole chiudere anche la faccenda del parco urbano di Piazza Darmi. Documento importantissimo, la fase illustrativa del DUP, tutte le iniziative che gli assessori, gli uffici e settori diversi stanno portando avanti e porteranno avanti nei prossimi anni e nei prossimi mesi nella città dell'Aquila all'interno della macchina comunale. Oggi si porta in approvazione del Consiglio Comunale un grande lavoro che sta svolgendo il Vice Sindaco Raffaele Daniele insieme al bilancio che ha già portato in giunta e che sicuramente porterà in Consiglio Comunale entro la fine di dicembre. L'opposizione dice che è un po' un copia e incolla? L'opposizione sono sei anni che fa l'opposizione, c'è un motivo, l'Aquila sta premiando il lavoro che portiamo avanti, la rinascita della città è visibile quindi l'opposizione fa l'opposizione ma noi lavoriamo. Mentre la maggioranza è soddisfatta del proprio documento, attorno a questo non sono mai mancate le polemiche per le opposizioni. Infatti si tratta di una scatola vuota, un copia e colla senza capo né coda. Oggi riprendiamo questa discussione interrotta alla scorsa seduta del Consiglio Comunale, peraltro seduta interrotta a causa della mancanza del numero legale per le assenze della maggioranza. Siamo di fronte a un ennesimo documento di programmazione, un po' un copia e incolla di quello che abbiamo visto lo scorso anno che ancora una volta denota l'assoluta mancanza di visione e quindi conseguente programmazione di quelli che sono gli interventi economici finanziari più importanti per questo territorio. Quindi ancora una volta sarà un momento in cui dovremo contrastare per quanto possibile come forze di opposizione un documento che spostando capitoli di bilancio, lasciando invariate tante voci di finanziamento denota ancora una volta l'assoluta mancanza di visione, di capacità e probabilmente di volontà di questa maggioranza al Comune di restituire interventi economico-finanziari che abbiano un peso e un significato per questo territorio.